Grande festa domenica 29 gennaio nella comunità di Ponte Metauro per l'ingresso del nuovo parroco Don Antonio Biagioli, che rimarrà in questa comunità per nove anni. Sperimenterai, ha affermato il Vescovo Monsignor Trasarti, in questa nuova famiglia un'altra affettività e porterai la tua esperienza di tanti anni in Africa. Caro Don Antonio, il parroco non è colui che decide i carismi, ma è colui che li armonizza, valorizza tutto ciò che sorgerà in questa parrocchia. Il Vescovo ha evidenziato inoltre l'importanza della venerazione del popolo di Dio, partendo proprio dagli ultimi. È stato difficile lasciare l'Africa, ha sottolineato Don Antonio. All'inizio ero un po' reticente perché pensavo che il Signore mi volesse in quella terra e non da altre parti. Poi però ho capito e ho accettato questo incarico. Il nostro compito sarà quello di rievangelizzare questo territorio. La comunità ha applaudito Don Gualfardo Innocenzi, che per 55 anni ha servito con tanto amore la comunità di Ponte Metauro, ed ora come un nonno saggio aiuterà Don Antonio nel suo servizio.